Ma buonasera da Simonetta Brò e da Sostiene Perera. Ormai è delirio collettivo. Da quando hanno installato il totem che indica quanto tempo manca alle Olimpiadi, Piazza Castello è inaccessibile. Sono ormai migliaia i torinesi che escono di casa e decidono di trascorrere la serata davanti al totem e vedere i secondi che passano. È uno spettacolo entusiasmante, ha dichiarato l'assessore alla cultura. Finalmente Torino ha qualcosa per cui valga la pena uscire di casa. La Christine Ling ha dichiarato perché privare i torinesi di un simile divertimento. Se il conto alla rovescia piace così tanto, siamo anche disposti di spostare le Olimpiadi di un paio di anni. Castellani ha detto che non è possibile, ma un pretesto per un conto alla rovescia si trova sempre. Ieri sera sono andata anch'io e devo dire che mi sono divertita parecchio. Previsioni del tempo. Se riusciamo a dare delle notizie un filino più sensate... Fiocca. Buonasera.